Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio Sulla A1 in direzione Roma per un incidente, 3 km di coda tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Imprunita e Barberino Spostandoci sulla FIPILI per lavori, 1 km di coda tra Empoli e Montelupo in direzione Firenze e tra Ginestra ed Empoli Est in direzione Mare Chiuso lo svincolo di Montelupo-Fiorentino, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita in direzione Mare Sulla Statale 64 Porrettana, all'altezza della Galleria del Signorino, restringimento di carreggiata e senso unico alternato Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze Buon viaggio!